io sono in safe io sono in safe siamo in 31 la domanda è un secondo 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 dai raga non ridete c'è un tipo là davanti easy c'è un tipo là dietro che sta laggando male è predato a 25 dagli e e la prende e la prende no se sto ai bordi della safe un cazzo di casino oddio raga questa tecnica moso sta cominciando a piacermi abbastanza io non mi muovo da qua raga posso prendere l'arma che voglio un attimo per non ci sono rumori non c'è il rumore dello switch dell'arma raga non c'è il rumore dello switch dell'arma no che figata raga un'altra cosa non c'è il rumore dello switch secondo me non è sospetto perché nessuno si rende conto dei pacchi cioè se li snobano non ti devi muovere è un po sospetto questo pacco è un po un po si un po è sospetto però secondo me sono tutti più concentrati a spararsi la pami la pami la pami la pami ciao amo bene bene stiamo giocando le arene tu ho fantastico allora ti aspetto qua dai resto di di no non fanno un cazzo ah ebbè dopo gli scrivo ci vediamo a casa si va bene ciao amo ciao ciao a me la situazione non sta dispiacendo io non non lo so raga secondo me sono molto tranquilli comunque sono facendo i loro i loro obelischi insomma in 18 adesso ne ne crepano 3 non ne ne crepano 3 da questo che la pusciata e ci prendiamo altri 30 punti siamo a 2980 punti con calma con calma non c'è fretta raga potremmo uscire anche noi non mi sembrano eccessivamente cazzuti ora che un tipo di pigiampa dietro nessuno si sta rendendo conto che c'è una scatola in mezzo al nulla questa cosa mi piace parecchio siamo in 17 sto seriamente rivalutando la tecnica amazon abbiamo anche quattro pesci la domanda è la domanda è attenzione attenzione se io adesso prendo non lo so ok ok bella il toro non è un problema è ci sta ci sta so che già la top 15 buona così ma io i pesci sinceramente non sono proprio i pesci siamo in 10 non sono proprio i pesci non sono proprio i pesci guardate ma io non sono proprio i pesci Grazie. Siamo in otto. Grazie. 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 Grazie.